Musica Amici, oggi viaggerò in bici con voi alla velocità della luce dal comune di Zulio a quello di Tolmezzo, punto di partenza il ponte di Zulio, punto di arrivo il ponte di Caneva che conduce a Tolmezzo. Il percorso è lungo all'incirca 7 chilometri e noi lo percorreremo in due minuti esatti. Partiamo! Non siamo neppure partiti che già abbiamo attraversato Zulio. Ora transiteremo per la sua frazione di forme aso. Musica Fortunatamente il semaforo è verde. Noi proseguiamo. Musica E siamo arrivati in località Sega. Sulla curva a sinistra c'è la segheria, ormai diroccata. Musica Noi proseguiamo perché al termine della salita c'è terzo, frazione del comune di Tolmezzo. Ora la strada si fa in discesa e noi aumentiamo la nostra ipervelocità. Musica In un batter d'occhio siamo a Lorenzaso, altra frazione Tolmezzina. Musica La prossima tappa è un'altra frazione dello stesso comune, quella di Casanova, nella quale facciamo ora il nostro ingresso. Musica Ora accendete le luci perché si entra in galleria. Al suo termine saremo a Caneva e poi, dopo qualche centinaio di metri, sul ponte direte a Tolmezzo. Musica Grazie per la compagnia in questo viaggio iperveloce. Se ti è piaciuto, ti invito ad iscriverti al canale e a lasciare un mi piace. Se video del genere ti piacciono, fammelo sapere nei commenti. Giuglio, Formeaso, località Sega, Terzo, Lorenzaso, Casanova, Caneva e Tolmezzo, Lucoral è stato qui. Un saluto iperveloce da Lucoral. Grazie per la visione.